Il dirigente municipale Grazia Cosentino aveva già annunciato la scorsa settimana che nel tentativo di arginare l'emergenza loculi si procederà con quelli comunali le cui concessioni trentennali non siano state rinnovate. Nella cimitero Farello non c'è più alcuna disponibilità di spazi comunali e anche le requisizioni sono state bloccate da decisioni del TAR Palermo. Così l'attenzione dei tecnici del municipio si è concentrata sul monumentale. Lo stesso dirigente ha indicato la disponibilità di almeno 1600 loculi. Si tratta di quelli già dati in concessione senza però che gli eredi o gli aventi diritto abbiano avanzato richiesta di rinnovo. Di conseguenza con l'ordinanza firmata si prevede un termine di 30 giorni come avviso agli eredi alla scadenza. Si procederà all'estumulazione dei resti presenti che verranno trasferiti in fosse comuni. In base al provvedimento si inizierà dalle sezioni 1, 2, 3 e 4 del cimitero monumentale di Caposoprano. Viene richiamata anche la mozione che un anno fa venne presentata dai consiglieri comunali Vincenzo Casciana e Gabriele Pellegrino. I tecnici hanno effettuato un vero e proprio censimento dei loculi presenti al monumentale. A Palazzo di Città qualche settimana fa era stata annunciata la consegna di prefabbricati a Farello in attesa dei lavori per i nuovi loculi. Per ora si procederà con quelli disponibili a Caposoprano.